Alessandro Foglietta, il nostro scenografo. Buon coreografo. Scenografo, coreografo, tutto, perché oggi hai fatto un po' di tutto. Sì, un po' di tutto. Però in particolar modo le coreografie del balletto. Esattamente. Io intanto volevo ringraziarvi perché ringraziare te, ringraziare tutto lo staff, perché è accoglienza magnifica come al solito. Poi quest'anno mi hanno detto ci vedremo un po' più spesso, quindi sono ancora più contento. Sei il coreografo ufficiale del festival, quindi più di così. Io sono contentissima di questo acquisto. Bene, anche io, anche io. Senti, Scuola Accademia? Scuola Accademia, Dance HQM, che si trova sempre in zona stazione Tiburtina, via Carlo Caneva 38. Ma la novità di quest'anno è che c'è un vero e proprio corpo di ballo che per l'appunto è presentato qui a Italia in Musica, a Festival Italia in Musica. È una novità perché fino all'anno scorso non ce l'avevamo e invece quest'anno abbiamo preso i più meritevoli. E quanto sono bravi. Eh sì, 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 sono bravi. Si impegnano tantissimo, stanno ottenendo dei buoni risultati. Io sono felicissimo perché il mio obiettivo è quello fondamentalmente, è anche il loro obiettivo. E oggi faremo un tango un po' rivisitato, rivisto, di Oona. Speriamo, insomma, piaccia e vi divertirete. Sicuramente sì. E quindi, regia, musica! La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.